Ops a tutti ragazzi, ragazze, come state? Come state? Spero bene, 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 bene. Oggi sono qui, 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 solo per voi, per registrare questo video un pochino strano, un pochino strano, che però ho visto, tra virgolette, andare un po' di moda e poi volevo provare, proviamo, proviamo. Ormai avete già saputo che su questo canale, su questo canale, su questo canale, abbiamo provato un po' di tutto. La scorsa volta, la scorsa settimana, abbiamo provato il fast ASMR. Adesso, adesso proviamo lo split painting ASMR. In cosa consiste? Non l'ho ben capito neanch'io, ma lo faremo. Quindi, indossate un paio di cuio auricolari, stendetevi sul vostro letto. Cercate di chiudere gli occhi, dai, va bene? Siete pronti? E pronte? Allora, 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 in questo caso consiste in... Poi faria. pensate che per quanto caldo fa volevo fare il video senza maglietta ma poi ho detto ma io ti no dai prima che poi io dopo magari a dare dire però dai magari ci sta un giorno fare il video senza maglietta ma cosa ne pensate? cosa ne pensate? no no T어있o Tra Trak 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 Oddio che caldo, poi mi viene fuori da ridere, ok, vai vai, ho visto che quando vicino alla mano le lucevano un po' di fetto, un po' di fetto, un po' di fetto, un po' di fetto, no, con un dito viene meglio. Non vi preoccupate, ce lavate le mani prima di registrare questo video. Oddio che capelli. Tracca, 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 tracca. Pozz怎麼 dice allora... cerchietti cerchietti che parola tricquerosa che parola tricquerosa con un dolore pepepepepepepepe un po' di più druga 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 drug trac 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 va solo per la lingua cucio, cucio, cucio 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 che calore, che calore, che calore così allora capisco perché la luce mi sbatta così tanto sulle mani sulle mani aspetta sulle mani sulle mani sulle mani allora adesso pure qua facciamo il contorno del viso contorno del viso un po' più dettagliato, va bene? che sono? allora abbiamo la fronte mi avvicino un po' la fronte là il viso, i laterali, i laterali fino al mento, fino al mento qua sotto, qua sotto per poi avere, allora abbiamo il sopracciglio destro quello sinistro quello sinistro il naso quindi le sopracciglia e il naso abbiamo un po' l'occhio, 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 l'occhio sinistro l'occhio, 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 l'occhio destro e la bocca e la bocca e la bocca, la bocca, la bocca e la bocca e la bocca è rilassati così 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 cosìonnen splitte paintings splitte 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 splitt 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 così allora relax relax enorme relax relax e relax relax no no Ah si 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 rilassati наяplante �������� ������ ������ splitta dolphins dolphins Sì, non è vero, non è vero della fotocamera, guardo un attimo dietro, ok così, 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 sì scusate se guardo tanto dietro la telecamera ma perché con il riflesso vedo proprio bene bene cosa sto registrando, cosa sto registrando, cosa sto registrando, a questo punto, adesso tocca a voi, a voi, iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ops community e se siete dei maschietti di qua diventare i miei Opsini mentre se siete delle mie minocce di qua diventare le mie Opsine rilassati, 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 rilassati poi lasciate anche un bel like, like qua sotto di supporto se il video vi è piaciuto e commentate con tutto quello che vi passa per la testa fatemi sapere se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi che il mio canale, questo qua è un posto sicuro quindi non avere paura a scrivermi il video di oggi purtroppo finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente ho una mia playlist e qua sullo schermo in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai qualsiasi 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 ok 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 dai 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 buonanotte dai un bacio Ci vediamo al prossimo video Buonanotte 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 Buonanotte